a quanto pare il trader nizar doveva molti e molti soldi al brasiliano che non ricevendoli praticamente si è recato a dubai per andarlo a trovare e risolvere la questione non aggiungo altro non vi lascio filmati noi ci vediamo un prossimo video linea lo studio vuoi vedere che chi fotte il brasiliano ancora deve esistere chi fotte il brasiliano ancora deve esistere andate a vedere il video che cazzo gli ho fatto pronto se sto arrivando in italia dai